Il Consiglio regionale del Piemonte ha attivato una raccolta fondi in favore dei terremotati dell'Emilia-Romagna. I cittadini che desiderano dare un loro contributo possono farlo attraverso versamento sul conto corrente postale numero 1006613754 o tramite bonifico bancario su Liban IT 84B 07601 01 000 001 006613754 intestato a Consiglio regionale del Piemonte, causale ProSisma Emilia-Romagna. Grazie per la visione!